Questa pioggia ci ha influito parecchio perché persone ce ne sono poche e quelle poche non è che siano tanti interessate a comprare, perché è una giornata un po' tra la pioggia, tra le persone è una giornata un po' triste oggi. Ancora una fiera antiquaria bagnata e quindi decisamente poco fortunata. L'edizione di settembre, una tra le più attese, infatti si è aperta nel peggiore dei modi complice ancora una volta il maltempo. Sabato e domenica abbiamo come sempre pioggia. L'antiquaria, come ogni settembre, è tornata nella parte alta della città per la concomitanza con la giostra del Saracino. Tutto sta che smetta di piovere, che ci faccia lavorare magari domani col Saracino, che faccia anche fare questo Saracino a questa città. La pioggia non ha scoraggiato più di tanto i visitatori che comunque si sono arrecchati al prato. In città poi ancora anche un discreto numero di turisti, soprattutto stranieri. La gente gira, ce n'è abbastanza. Poi dopo quantitativamente non è che si può vedere, dire esattamente, però comunque di gente ce n'è sempre alla fiera di Arezzo. Tra i banchi non solo antiquariato, ma anche qualche curiosità. Si lavora anche per oggetti moderni come le chitarre elettriche, però si utilizza un prodotto, una materia antica, una tradizione anche antica di lavorarla. Molti chitarristi mi chiedono di avere l'incisione del loro logo o le iniziali, oppure se si tratta di una band di cover, chiedono la personalizzazione con le immagini della band, legate alla band. Grazie.